Allora, buongiorno a tutti e benvenuti anche alla giornata odierna. Allora, vedo che siete in molti, buongiorno, già appunto pronti per questa attività mattutina. Io sono Maria Rosaria Russo e sono la responsabile del progetto di assistenza tecnica e oggi con noi c'è Stefania Maselli che è la coordinatrice della task force dell'assistenza tecnica FSC presso appunto gli uffici di Pescara, che saluto e che ringrazio appunto per aver preparato la giornata odierna. Questa mattina appunto il tema che appunto ci presenterà Stefania è quello dei controlli di primo livello. Quindi chi ha partecipato anche ai precedenti appuntamenti trova sul sito eventi IPA del Formez le registrazioni e le slide dei precedenti tre appuntamenti, che ricordo appunto sono stati l'inquadramento sul piano di sviluppo e coesione, la certificazione della spesa e il sistema di monitoraggio. La giornata odierna quindi verte sui controlli di primo livello con anche una panoramica sulle spese ammissibili. Il prossimo appuntamento invece poi quello di mercoledì 18 maggio farà appunto un focus ancora più specifico sui controlli di primo livello con anche dei casi pratici e anche l'illustrazione delle checklist. Spero che appunto oggi sia appunto tutto in ordine, che appunto la connessione sia buona per tutti voi e in modo che appunto possiate appunto interagire anche con la nostra vellattrice di oggi. Vi ricordo che a disposizione di tutti c'è la chat, quindi spero che la giornata di oggi sia assolutamente interattiva e che voi utilizziate la chat in modo proattivo per far pervenire a Stefania Maselli e comunque al gruppo della task force di assistenza tecnica dell'FSC ogni domanda che riterrete opportuna alla quale noi proveremo a rispondere o in questa sede o comunque anche nelle sedi degli appuntamenti successivi. Siamo a 35 partecipanti, attendiamo giusto qualche altro minuto che altri colleghi si uniscano a questo incontro odierno prima poi di lasciare la parola a Stefania. Vi ricordo appunto come siamo organizzati, presso l'organismo di programmazione abbiamo la task force e i punti di riferimento presso l'ODP all'Aquila sono Marta Coruzzi, Pietro De Michele e Maria Chiara Crocenzi per le altre sedi appunto abbiamo su Pescara a Stefania Maselli e sull'Aquila a Alessandro Ciccone. È chiaro che appunto anche tutti gli altri colleghi restano a disposizione come antenne per poter poi supportarvi sia i responsabili di linea che i controllori di primo livello in tutte le attività di assistenza tecnica che sono in primis il monitoraggio e i controlli di primo livello con un supporto poi specifico quando appunto necessario anche sull'attuazione. Allora siamo a 38 partecipanti, chiederei appunto a Stefania di fare una prova audio per vedere se appunto la sentiamo, spero di sì. Salve, buongiorno a tutti, come vedete sono ospite del Dipartimento della Sanità che ci ha concesso l'utilizzo della loro sala riunioni, per questo vedete intorno a me i faldoni della regione Abruzzo. Spero che questa location oggi ci permetta di non avere problemi tecnici che a questo punto poi addurremo direttamente al sistema, alla linea regionale. Addurremo proprio all'infrastruttura del paese. Allora appunto apprezziamo lo sforzo di Stefania anche di aver cercato di trovare una sala che fosse appunto l'optimum, il meglio che c'è in regione Abruzzo per quanto riguarda la connessione. Purtroppo ci sono comunque alcuni colleghi nonostante ciò che dicono di non sentire o di sentire attratti come anche le altre volte vi chiedo di scrivere in chat da quale sede vi connettete. Ribadisco appunto abbiamo provato a fare il tutto di tutto per poter connettere in maniera ottimale tutti i partecipanti e è chiaro che c'è una percentuale come sempre che ha problemi di audio. Vi posso assicurare che tutte le registrazioni però saranno disponibili e l'audio sarà diciamo quello che effettivamente stiamo registrando e quindi senza salti. E' chiaro che vi chiedo oltre che a segnalarlo a noi anche di segnalarlo ai vostri sistemi informatici perché è evidente che se da parte del Formez e quindi anche a livello centrale di Roma da parte quindi della funzione pubblica e della spinta che si sta dando al lavoro in rete e alla formazione a distanza ci siano problemi così gravi è chiaro che è necessario poi segnalarlo anche a chi di competenza e dall'interno. A questo punto appunto non sottrarrei altro tempo a Stefania alla quale appunto lascerei la parola e vi chiedo quindi soprattutto a coloro che a questo punto sentono in maniera ottimale di utilizzare la chat e di interagire con Stefania per quanto riguarda appunto la giornata odierna. Per gli altri con un po' di pazienza nei momenti in cui appunto non hanno la fluidità necessaria che magari potranno riascoltare per sentire diciamo la replica tra virgolette quando verrà messa a disposizione. Stefania lascio la parola a te, grazie. Allora buongiorno a tutti, cercherò di parlare più lentamente possibile in modo tale che anche se appunto l'audio è a tratti e quindi cerchiamo appunto tutti di seguire il filo del discorso. Allora l'argomento di oggi è il sistema di gestione e controllo. In base alla delibera Cipe già indicata dalla mia collega Marta Coruzzi 25 del 2016 al punto 1,2 lettera K tutti i beneficiari della programmazione finanziata col fondo di sviluppo e cosione devono produrre i manuali di gestione e di controllo per assicurare un efficace sistema appunto di gestione nell'impiego delle risorse del ciclo di programmazione. Quindi anche la regione Abruzzo come tutte le regioni beneficiari appunto dei fondi di sviluppo e cosione hanno prodotto una manualistica che è stata sottoposta al vaglio e alla verifica del NUVEC del nucleo di verifica e controllo presso l'agenzia della coesione e che ha appunto verificato la correttezza dei documenti che indicavano le procedure che sarebbero state attivate per la gestione e il controllo del fondo e ha adottato con atti amministrativi propri la seguente documentazione che cito in questa slide. Perché inizio questo incontro indicando questi che sono i documenti? Perché sono necessari alla gestione e al controllo di tutti gli interventi finanziati dal fondo di sviluppo e cosione? Perché ritengo essere questi la cassetta degli attrezzi di tutti coloro che come voi che state partecipando a questo incontro sono attori dei procedimenti e quindi a vario titolo intervengono in tutto il flusso del procedimento perché lo stesso raggiunga il massimo dell'efficacia e dell'efficienza nei target di spesa. Allora, il documento quindi, il manuale cardine e il sistema SIGECO, il sistema di gestione e controllo che come appunto recita la slide, illustra le procedure e le modalità di gestione dei fondi ma altrettanto importanti sono tutti gli altri manuali allegati allo stesso e sono appunto il manuale delle procedure di gestione, le linee guida sulle spese ammissibili, la manualistica per il monitoraggio che è già stata indicata dal mio collega Miniello nell'ultimo incontro, le piste di controllo e il manuale dell'autorità di certificazione. Tutta questa documentazione potete scaricarla, qualora non l'avete ancora in vostro possesso, presso il sito della Regione Abruzzo, fatto per il Sud Regione Abruzzo, a cui appunto in fondo alla slide trovate il link. Tutta questa manualistica è rilevante perché assegna a tutti gli attori, quindi alla governance del programma che in questo caso io ovviamente mi sono focalizzata sulla programmazione 14-20 ma la stessa deriva da quella stessa manualistica del ciclo di programmazione 2007-2013 e trova nella precedente programmazione proprio il punto di partenza su cui sono state poi affinate delle modifiche alle procedure per rendere anche più snello e più veloce il procedimento. Però fondamentalmente non ci sono grosse novità rispetto alla 2007-2013. Quindi oggi faremo riferimento in particolare a questa manualistica considerando che la stessa è figlia della precedente programmazione con piccole modifiche. Quindi cos'è importante nel sistema di gestione e controllo? La cosa principale di cui comunque già i colleghi hanno parlato è individuare il ruolo di ciascun attore all'interno della governance regionale. Mi focalizzo su questo perché ovviamente le procedure vengono attuate dalle persone e quindi ogni persona incardina un ruolo specifico all'interno del procedimento di attuazione del programma. Io figlia della mia formazione economica ritengo il sistema di gestione e controllo diciamo il cardine su cui ognuno degli attori deve svolgere il suo ruolo in maniera coordinata. Perché? Perché il flusso delle informazioni all'interno di ciascuno dei ruoli diventa fondamentale affinché tutto il procedimento possa essere in corso d'opera oggetto di continui feedback e aggiustamenti. Se questo flusso informativo nell'attività di attuazione, gestione e controllo è corretto ci consente di modificare le attività anche in itinere e migliorare le performance del fondo. Performance che si ovviamente ripercuotono a livello territoriale nel conseguimento di obiettivi di sviluppo perché noi tutti quanti, l'assistenza tecnica e voi in particolare come effettivi attuatori dello stesso abbiamo tutti questo grande honor, responsabilità nel considerare che questi fondi di fatto si ripercuotono sulle infrastrutture, sui servizi e sulle attività anche imprenditoriali del nostro territorio. Quindi è un ruolo di grossa responsabilità. Allora, facciamo un volo da Angelo, come si dice, sulla governance che è già stata comunque illustrata focalizzandoci unicamente però su quelli che sono gli attori regionali. Ovviamente nella slide successiva abbiamo un organigramma che considera anche quelli che sono gli attori nazionali da cui deriva poi l'approvazione della programmazione. Però, diciamo, quelli che sono colleghi con cui vi relazionate nel caso appunto della gestione del controllo del programma sono ovviamente, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, individuati nel RUAP che è il responsabile unico dell'attuazione del programma, come quell'autorità di gestione che assicura l'attuazione nel rispetto appunto della normativa e del SIGECO i dipartimenti servizi regionali che individuano il responsabile unico di attuazione che può appunto svolgere, definire gli interventi attraverso un accordo di programma quadro come diceva la mia collega Coruzzi, vi ha appunto illustrato, oppure lo strumento di attuazione diretta i soggetti attuatori che vengono individuati dal RUA attraverso appunto bandi o convenzioni dirette e appunto individueranno al loro interno il RUAP, il responsabile unico di progetto i controllori di primo livello che hanno la responsabilità di verificare l'esecuzione degli interventi e la loro regolarità e legittimità sotto gli aspetti amministrativi contabili e finanziari l'organismo di certificazione di cui appunto vi parlava il mio collega Pietro Di Michele a cui ha finito il compito di formulare le richieste di rimborso e il referente della comunicazione questi attori sono quelli con cui vedremo nel flusso del procedimento di gestione, attuazione e controllo di tutti gli interventi finanziari dal fondo di sviluppo e coesione sono quelli che interagiscono all'interno della regione e più è facilitata questa integrazione, interrelazione più il feedback informativo consente di migliorare la performance di spesa del fondo quindi non mi soffermo ulteriormente perché comunque già avete avuto ma volevo a questo punto chiarire diciamo quelli che erano i ruoli e gli attori di questo processo di seguito ho inserito comunque un organigramma che non è aggiornato perché il RUAP attualmente è presso il servizio politico nazionale e invece mi scuso perché l'organigramma era diciamo legato a quello che era l'attuazione nel 2019 che ha visto delle modifiche quindi lo metto unicamente per riuscire a dare un, ho inserito questo organigramma unicamente per dare un flash più grafico e più veloce in questo organigramma ci sono inseriti anche gli altri attori che sono il comitato di indirizzo del patto presso l'agenzia della coesione ovviamente i responsabili del monitoraggio che non ho citato nell'elenco precedente per quanto riguarda a questo punto quello che è il focus di questo intervento noi dobbiamo, visto che stiamo parlando in particolare del sistema di gestione e controllo del ruolo del controllore di primo livello dobbiamo chiarire in prima istanza quello che è il rapporto tra il RUA o anche RDL in questo caso ho voluto citare anche quello che era l'appellativo del responsabile di linea nella precedente programmazione 713 perché per chiarire che comunque stiamo parlando del medesimo responsabile cioè nella programmazione 2007-2013 del fondo di sviluppo e coesione il responsabile dell'attuazione che nel patto presso appunto viene indicato come RUA responsabile unico di attuazione nella precedente programmazione veniva indicato come responsabile di linea quindi molto spesso nello stesso dipartimento avremo nella persona del medesimo dirigente sia per la 713 il responsabile di linea per gli interventi 713 ancora conclusi e quindi in via di conclusione e per gli interventi del patto per il sud prenderà il nome di responsabile unico di attuazione quindi per questo in questo slide ho voluto indicarli entrambi Allora, il RUA ovviamente ha un ruolo determinante e ho voluto indicare tutti quelli che sono i compiti in capo allo stesso perché si chiarisca bene quali sono le linee di confine tra le responsabilità e i compiti del RUA e quelle che sono i compiti e le responsabilità del responsabile del controllo RDC quindi partiamo velocemente sempre su questi compiti perché così abbiamo chiaro quello che poi sarà l'interazione tra l'uno e l'altro che si è basato sul principio di separazione delle funzioni ma comunque è un ruolo di interscambio continuo che consente, io ribadisco, il miglioramento delle performance di spesa del fondo quindi non è un ruolo di contrapposizione ma è un ruolo di collaborazione comunque il RUA fondamentalmente è investito dal RUA che è il responsabile unico di attuazione del programma o anche per il 713 l'organismo di programmazione ODP ovviamente è la predisposizione di disciplinari e convenzioni quindi si occupa della selezione dei beneficiari finali che se ovviamente organismi di diritto pubblico può andare in convenzione diretta oppure se si rivolge appunto a organismi pubblico privati di natura pubblico privatistica emanerà dei bandi degli avvisi e procederà alle selezioni del beneficiario finale ovviamente dovrà garantire la conformità delle operazioni gestire i rapporti con i soggetti attuatori quindi con i RUP verificare il responsabile del monitoraggio dello stato di avanzamento quindi si dovrà occupare della verifica che i soggetti attuatori quindi i RUP implementino il sistema di monitoraggio come diceva appunto il mio collega Miniello segnalare al RUA eventuali criticità verificare il grado di attuazione e quindi verificare sempre la correttezza dei cronoprogrammi rispetto a quello che è stabilito nei contratti e convenzioni conservare la documentazione analizzare i risultati dei controlli effettuati e trasmettere gli stessi praticamente poi al RUAP e relazionarsi eventualmente con l'organo di certificazione se ci sono irregolarità segnalazioni e procedere alle revoche e al recupero finanziario qualora appunto ci siano state dei dettagli o delle verifiche successive da parte dell'organo di certificazione e non ultimo ovviamente il rispetto dell'obbligo dell'informazione e pubblicità Tutte queste attività ovviamente confluiscono poi in quello che è il fascicolo di progetto cioè tutte queste attività poi saranno documentate a livello di atti amministrativi e praticamente dovranno confluire e saranno oggetto di verifica da parte del responsabile del controllo Quindi qual è il rapporto tra il RUA e il responsabile del controllo? Il RUA sulle operazioni di propria competenza e sempre nel rispetto del principio di separazione deve attivare il controllo di primo livello trasferendo il fascicolo di progetto completo e tutte le sue evidenze documentali necessarie all'attività del responsabile del controllo Quindi parliamo di un'intensa attività di collaborazione interscambio di documentazione tra il responsabile unico di attuazione o responsabile di linea e il responsabile del controllo Questa attività ovviamente è legata all'individuazione specifica che ogni capo di dipartimento all'interno dei servizi del dipartimento fa nell'individuare i due attori di questo procedimento Sono attori che assolutamente nel rispetto del principio di separazione non possono afferire allo stesso servizio ovvero non è incompatibile il controllore che si trovi praticamente a essere inserito incardinato nello stesso servizio che si occupa anche della gestione dell'intervento o dell'operazione Quindi ovviamente la nomina poi viene trasferita con atto amministrativo al RUAP o all'ODP e che con atto amministrativo proprio prenderà atto di tutte le nomine e ovviamente a periodi, a intervalli regolari verificherà le modifiche o le nuove nomine Qual è l'attività? Adesso focalizzandoci solo sul controllo di primo livello praticamente il controllo di primo livello ha ovviamente come obiettivo il perseguimento di principi di sana e corretta gestione del fondo Io ho voluto focalizzarmi su questi tre principi che sono quelli appunto che indicano e segnano la linea di condotta del controllore quando prende possesso appunto successivamente vedremo in maniera più dettagliata di come si compone, si dovrebbe comporre un fascicolo di progetto per riuscire appunto a imbastire la propria condotta sul rispetto di questi tre principi Il principio cardine ovviamente è il principio della legittimità della spesa Tutte le spese devono ovviamente rispettare sono sostenute nel rispetto della normativa comunitaria nazionale e regionale di riferimento e con particolare riferimento alle disposizioni in materia fiscale, contabile, appalti pubblici regime di aiuti, concorrenza ed ambiente Questo che comporta ovviamente già solo l'applicazione di questo principio comporta che il RUA nell'attivare appunto la richiesta di controllo di primo livello in fase di acconto, saldo dell'operazione deve mettere il responsabile del controllo e le condizioni di verificare tutta la documentazione amministrativa a monte quindi da una determina contrarre fino alla definizione della procedura di selezione del fornitore o del beneficiario finale al contratto che individuano il percorso giuridico e il rapporto tra le parti in modo da verificare se lo stesso sia stato adempiuto rispetto agli obblighi contrattuali previsti nel contratto o nella convenzione Ovviamente tutta la normativa amministrativa deve essere stata rispettata sia che sia l'applicazione, la mera applicazione del 241 del 90 qualora si parli di convenzioni anche tra enti pubblici fino a quelle che sono le normative delle contratti in materia di contratti pubblici che appunto sono il decreto legislativo 50 e nel 2016 e tutta la normativa appunto che benissimo sappiamo voi sapete meglio di me che deve essere rispettata nei procedimenti amministrativi Questo ovviamente riguarda la parte meramente amministrativa del fascicolo di progetto, del controllo perché io tendo a individuare appunto due grandi blocchi del fascicolo di progetto come deve essere costruito un blocco che riguarda unicamente la parte appunto di selezione del beneficiario e del fornitore diretto o allora il procedimento sia a titolarità o a regia regionale e poi c'è il principio dell'effettività della spesa e il principio temporale afferiscono a quella che è la parte del fascicolo di progetto meramente contabile in quanto in questo caso, come sappiamo bene il rapporto giuridico tra le parti comporta ovviamente l'attivazione dell'intervento e appunto la necessità di sostenere la spesa per ottenere la realizzazione del bene se si parla di opera pubblica o l'erogazione del servizio o l'acquisizione di beni perché di solito appunto possiamo ricondurre l'intervento a tre macro categorie di spesa che sono appunto la realizzazione di opere pubbliche la fornitura di beni e servizi o la realizzazione di servizi Allora, il principio dell'effettività della spesa e il principio temporale afferiscono a questa macro categoria cioè quindi a questo blocco documentale che riguarda proprio il fascicolo contabile in quanto la spesa non può prescindere dalla sua temporalità cioè qualsiasi programma che sia un programma del fondo di sviluppo e cosione o sia un programma finanziato dai fondi SIE ha una sua temporalità altrimenti appunto le opere non avrebbero mai una conclusione che si configura all'interno poi delle convenzioni e dei contratti in un cronoprogramma questo cronoprogramma indica la temporalità in cui le spese sono ammissibili e quindi finanziabili se sostenute all'interno di quell'intervallo temporale e quindi questo è il principio temporale per cui ovviamente il responsabile del controllo nel fascicolo del procedimento amministrativo deve individuare l'arco temporale di ammissibilità della spesa ed esumibile dai cronoprogrammi e il principio dell'effettività della spesa in questo caso banalmente bisogna verificare se la spesa è stata effettivamente sostenuta e se la stessa rispetto sempre agli obblighi contrattuali e alle convenzioni è riconducibile a quel specifico intervento ed è inerente allo stesso nell'effettività della spesa io molto spesso, sempre da economista individuo il principio di inerenza come un principio base che molto spesso non viene citato per la forza che ha perché le convenzioni e i contratti molto spesso non arrivano a quel livello di dettaglio della spesa se non sono codificate in bandi in cui sono individuate in maniera puntuale scusate un attimo no, qui no, sono da sola scusate l'interruzione stavo dicendo il principio di inerenza quindi molto spesso nei contratti e nelle convenzioni non vengono dettagliate in maniera puntuale a meno che non troviamo dei quadri economici in cui ovviamente ci sono le categorie di spesa individuate in maniera puntuale e quindi dobbiamo ricondurre le spese a quel qualora non ci siano dei riferimenti specifici in maniera così puntuale e dettagliata come nell'avviso del bando del quadro economico il principio di inerenza è il principio che dimostra per cui si dimostra che quella spesa era necessaria a ruggimento dell'obiettivo di progetto mi sono dilungata alcuni minuti in più su questi principi spero di essere stata chiara vado avanti individuando ovviamente il processo del controllo le due modalità individuate all'interno sempre della manualistica quindi del SIGECO e del manuale di gestione il processo del controllo di primo livello si può articolare in due modalità specifiche abbiamo il controllo amministrativo on desk sul 100% delle operazioni che ovviamente quindi viene attivato per tutte le operazioni e per tutta la spesa e invece il controllo il loco che viene effettuato su base campionaria o in relazione a particolari situazioni e criticità che vengono rilevate in itinere anche questo come vedete mentre per quanto riguarda i controlli amministrativi è un processo diciamo scontato e ovviamente scontato intendo dire come proceduralizzato è necessario all'avanzamento della spesa perché appunto abbiamo di solito acconti e sal specialmente per le opere pubbliche di avanzamento della spesa e quindi la stessa non può avanzare se il controllo di primo livello non avalla il primo acconto e i sal successivi il controllo è un loco è un'altra forma di collaborazione estrema tra il RUA e il controllo di primo livello che io sottolineo come strumento di collaborazione e interscambio che consente allo stesso RUA qualora appunto concordi di attivarla anche un elemento che consente quel feedback quel flusso di informativo e documentale necessario a superare le criticità necessario a verificare lo stato di avanzamento dell'intervento che è veramente uno strumento che nel nell'iter di progetto nel ciclo di progetto ci consente di migliorare la performance della spesa e intervenire anche qualora dovesse essere necessario nella revoca nell'intervento nella rimessa a disposizione delle somme su progetti che potrebbero essere più virtuosi e che vista una celeri spesa potrebbero permettere appunto di migliorare la performance di spesa del fondo e anche il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che sono alla base di tutti gli interventi che vengono finanziati e vado avanti indicando appunto i controlli amministrativi on desk che sono ovviamente finalizzati a verificare la realizzazione che che la realizzazione dell'operazione sia coerente e completa quindi diciamo anche qui il controllo amministrativo non è un controllo documentale sulle carte ma un grande obiettivo dietro l'obiettivo è che il macro obiettivo del controllo amministrativo è quello di verificare che la spesa sia effettivamente sostenuta in coerenza con tutti i documenti amministrativi sottoscritti tra le parti quindi con contratte e convenzioni e in coerenza con gli obiettivi del programma gli obiettivi del programma che io dico sempre sono obiettivi di sviluppo allora sottovalutiamo questo controllo e lo riteniamo gravoso quando in realtà invece dal mio punto di vista è veramente fondamentale perché permette di avere intanto un punto esterno e critico ma non critico nella versione negativa critico nella versione positiva rispetto a quello che può essere sfuggito nella gestione e cercare appunto di dare dei consigli dei suggerimenti allo stesso RUA quindi il controllo amministrativo ovviamente si basa sulle spese dichiarate che siano state effettivamente sostenute quindi il principio di effettività della spesa che dicevo precedentemente che le procedure eseguite le spese sostenute siano conformi alle norme comunitarie quindi stiamo ancora nell'ambito del principio di legittimità e che le domande di erogazione e finanziamento siano corrette conforme a quelle previste ai provvedimenti di approvazione del progetto finanziato perché questo punto perché come ho detto il controllo permette di avallare la prosecuzione nell'erogazione dei fondi qualora siamo nel caso appunto di acconti e appunto primo sal secondo sal diciamo rispetto a quello che è il cronoprogramma alle convenzioni e contratti sottoscritti scusate un attimo chiudo la porta che non si chiude un attimo ok andiamo avanti la tecnologia è massima ma la porta non 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 si chiude se non si mette una porta una una sedia davanti allora i controlli amministrativi quindi abbiamo detto che si vanno sul 100% della spesa ovviamente sugli atti amministrativi propedeutici come ho detto quindi fascicolo di progetto relativo alla selezione del fornitore e fascicolo di progetto riguardante le spese sostenute con l'utilizzo ovviamente di appositi checklist e format di verbali legati al manuale delle procedure di gestione quindi rifacendomi a quello che era la prima slide quindi alla cassetta degli attrezzi tutti quelli che sono diciamo i format indicati nel manuale io vi sollecito a scaricarli qualora appunto non io dico per coloro che sono hanno nuova nomina ovviamente di controllore di primo livello nei neofiti che abbiamo all'interno di questa di questa appunto sezione formativa in modo tale che tutto è indicato e codificato in quelli che sono i format allegati al manuale stesso per quanto riguarda il flusso documentale io ovviamente ho speso ulteriore sono sempre a diciamo a ribadire questa attività di interscambio perché la ritengo particolarmente significativa nel senso che è necessario che si migliorino le performance diciamo dell'interscambio tra il RUA e il responsabile del controllo perché per entrambi questo lavoro questa fluidità nel flusso documentale permette appunto di migliorare proprio le performance dell'operazione dell'intervento quindi come ho già detto il beneficiario del finanziamento cioè il RUP è tenuto a trasmettere a RUA la documentazione riguardante l'intervento che consente di effettuare il controllo di primo livello e a questo punto questa documentazione è legata sia alla spesa che alla realizzazione dell'attività o forniture previste dal contratto e convenzione sia alla rendicontazione della stessa a quel punto il RUA invia la documentazione ricevuta dal RUP al responsabile del controllo che ricevuto il fascicolo del progetto verificherà la documentazione e la sua conformità alla normativa nonché l'effettività e la correnza della spesa e compilerà la checklist conforme tra quelle allegate al manuale di gestione rinvierà rinvierà a RUA l'esito del controllo allegando la checklist sottoscritta quindi penso che è abbastanza chiara questa slide perché ovviamente qui indica i rapporti tra RUP RUA e responsabile del controllo e ovviamente in nessuno di questi cioè nell'interscambio del flusso documentale tra il RUP il responsabile unico di attuazione o responsabile di linea e il controllore di primo livello qualora si creano appunto tra questi nell'interscambio di questa documentazione dei colli di bottiglia ovviamente l'intervento stesso ne risentirà ne risentirà perché comunque poi il RUA potrà solo all'esito del controllo ovviamente sottoscrivere e redigere le termine liquidazioni del nuovo SAL e questo comporterà un blocco dell'operazione che per quanto riguarda opere pubbliche significa appunto un blocco dei cantieri perché sappiamo benissimo che poi qualora appunto le ditte non vengono liquidate l'ulteriore SAL di solito i cantieri vengono bloccati oppure nel blocco delle forniture quindi mi fa sempre piacere ribadire quale ruolo rilevante nel procedimento amministrativo hanno tutti questi attori rispetto all'obiettivo del programma in generale il RUA infine ha il compito di trasmettere le esultanze del controllo al RUA appello dc e di archiare nel fascicolo di progetto documentazione attestante controlli svolti e alimenta in formato elettronico un registro unico dei controlli per linea di azione questo si riconnette poi all'intervento del mio collega Pietro che ovviamente aveva illustrato come procedere alla redazione dell'attestazione di spesa questo appunto è il ciclo di progetto o anche il ciclo finanziario del progetto perché perché solo quando tutto il ciclo di progetto che viene dalla selezione del beneficiario o del soggetto attuatore al monitoraggio dell'attività di intervento e di realizzazione dell'opera fornitore di servizio o aiuto e alla composizione del fascicolo di progetto al controllo al rinvio dello stesso all'erogazione del finanziamento solo allora la stessa regione potrà rientrare poi nelle somme anticipate o finanziate grazie appunto come sapete alla redazione dell'attestazione di spesa e alla richiesta del rimborso al Cipe infine volevo velocemente parlare dei controlli in loco ma farò una padronomica veloce perché mi premi poi passare un attimo a puntualizzare l'ammissibilità della spesa quindi mi sono soffermata molto sul controllo documentale on desk 100% perché è quello che comunque deve necessariamente essere fatto per tutta l'operazione quindi dall'acconto al saldo le verifiche in loco ho detto come già anticipato che sono uno strumento che è importantissimo che secondo me serve sia a RUA che al controllore per la verifica dell'effettività dell'operazione sono realizzati sul 5% totale della spesa e sono non solo un controllo finanziario ma anche un controllo fisico in particolare appunto permettono sicuramente diciamo anche per le opere pubbliche di verificare l'effettività e l'esistenza della stessa vado veloce perché le verifiche in loco si articolano appunto nella definizione del campionamento nella selezione delle operazioni nello sveleggimento dell'attività della visita in loco anche in questo caso il manuale prevede una checklist specifica per quale verbale che verrà emanata alla fine del controllo dal controllore e quindi il follow up degli essi della verifica seguono appunto la redazione e la sottoscrizione dal parte del responsabile del controllo della checklist controllo in loco allegata al manuale e se non ci sono domande visto che sto parlando interrottamente ormai da quasi 50 minuti passerei alle spese ammissibili vogliamo Maria Rosaria Russo vedere se su questa prima parte degli attori e dei procedimenti ci siano delle domande specifiche per poi passare alle spese ammissibili o procedo così volete qualcuno vuole fare delle domande in modo tale che è tutto estremamente chiaro dove è stata procedo questa modalità chi mi conosce sa che preferirei un'aula di 200 persone a questa modalità online che mi fa sempre pensare di essere stata poco chiara e non mi permette di interagire con le persone vabbè vado avanti vado avanti sì nessuno scrive in chat va bene allora in modo tale che fra 10 minuti e un quarto d'ora posso anche chiudere questo intervento allora per quanto riguarda le le spese ammissibili sempre in quella che abbiamo detto essere la cassetta ecco Maria Rosara ci sono domande se no proseguo sono vabbè sono volevo riprendere piato veramente assolutamente hai ragione quindi ti faccio riprendere piato ed eventualmente anche bere un sorso di acqua se è necessario perché mi sembra cosa buona e giusta allora noi siamo a 65 partecipanti spero che qualcuno almeno una percentuale senta mi sa che dovrei chiedere più chi sente chi non sente magari anche dalle sedi in cui sentite magari dateci un segnale di vita e almeno scriveteci se ci sono sedi che sentono bene perché altrimenti bisogna desumere che veramente tutta la regione Abruzzo tutti gli uffici della regione Abruzzo fuorché diciamo l'ufficio dal quale Stefania Maselli si sta collegando che quello della sanità diciamo ha una connessione buona e giusta necessaria e sufficiente per seguire una attività grazie Alessandra Ferri che sta scrivendo da Opere Marittime Pescara sono molto diciamo sono sono rincuorata di questo quello che però appunto è utile ribadisco diciamo la finalità di questi incontri è è chiaro che introdurre a chi lavora sull'FSC ed è stato inserito diciamo negli ultimi tempi a tutti i concetti diciamo di base della di questo fondo che sono appunto illustrati nei manuali citati nelle giornate negli incontri precedenti che abbiamo avuto nonché oggi quindi sostanzialmente ci stiamo attenendo in questo momento a un livello molto basico proprio per uniformare diciamo le conoscenze di tutti soprattutto dei nuovi controllori dei nuovi responsabili di linea è chiaro che ogni attività ogni ogni richiesta diciamo ulteriore di approfondimento ce la potete chiedere e potete appunto utilizzare sia questa chat oppure ribadisco i canali soliti dei colleghi di assistenza tecnica che conoscete e che lavorano presso i vari singoli servizi allora oltre Alessandra Ferri anche Silvia De Melis dal servizio gestione rifiuti di via Catullo ci dicono che la ricezione è chiara sono contenta purtroppo invece Flaviano Cole ci dice che sente male se ci dice anche l'indirizzo della sede Gianni di Giacomo è a singhiozzo Pennelli via Conte di Luvo a Tratti quindi veramente una situazione che ha dell'incredibile sono sconvolta Stefania ti rilascerei la parola e un quarto d'ora penso che per continuare appunto la tua illustrazione dopodiché se ci sono dei commenti li registreremo altrimenti poi chiuderemo la sessione va bene allora e molto probabilmente per tutti quelli che già lavorano da anni su queste tematiche quanto già illustrato è ovviamente pane quotidiano quindi spero comunque di aver fatto un ripasso generale utile a tutti comunque sia ai nuovi che a coloro che hanno più esperienza in queste tematiche sicuramente sarà poi il mio collega della prossima sezione a prendere appunto in mano la checklist le varie checklist e a fare esempi pratici e adesso ovviamente ho cercato di essere comunque più anche nell'illustrare quelle che sono i flussi documentari e gli attori e le procedure amministrative più operativa possibile rimane da diciamo in questa sezione da fare un punto sulle linee guida di ammissibilità della spesa e appunto adesso abbiamo iniziato questo questo nostro colloquio mattutino e indicando quelli che sono i documenti cardine la cassetta degli attrezzi che chiunque gli attori del procedimento deve avere quindi ho parlato appunto del documento del cardine che è il documento del SIGECO il sistema di gestione e controllo ho citato il manuale delle procedure di gestione in cui sono indicati praticamente gli attori la governance e quelli che sono sempre diciamo le modalità di attuazione del programma che citava anche la mia collega Marta Coruzzi e la la PQ il SAD per passare poi a diciamo approfondire il ruolo del controllo del RUA e del controllore e l'interscambio documentale tra di loro e adesso voglio focalizzarmi sempre su uno di questi documenti che vi ho elencato nella prima slide che è anche fondamentale la cui conoscenza approfondimento è fondamentale sia ovviamente per il RUA ma anche per il responsabile del controllo che sono le linee guida di ammissibilità della spesa allora le linee guida di ammissibilità della spesa sono ovviamente si definiscono tali perché indicano quelle che sono diciamo in linea generale le spese ammissibili all'interno del programma e quindi a cascata sui singoli interventi operazioni però fondamentalmente rimettono le stesse a una decodificazione specifica quindi a un elenco una definizione più puntuale che solo il RUA nel momento in cui individua l'operazione la modalità di selezione del soggetto attuatore potrà fare nell'avviso bando che diventa appunto il riferimento per il responsabile del controllo per comprendere quale sia l'effettiva spesa ammissibile quindi quello che io adesso indico in maniera generale che comunque ho desunto dalle linee guida di ammissibilità della spesa approvate con atti amministrativi regionali sono criteri generali generali che afferiscono poi comunque a tutto il mondo di quelli che gestiscono fondi vincolati che siano sia il fondo di sviluppo e coesione sia che sono che siano i fondi comunitari quindi mi limito a in queste slide che appunto ho prodotto a fare un volo d'angelo appunto su criteri generali quindi delle spese ammissibili e delle spese non ammissibili e alle modalità di rendicontazione della spesa anche in questo diciamo forse in questa materia ancora di più si potrebbe spendere una lezione specifica per quanto c'è da dire però ovviamente è importante che la stessa sia calata poi nell'intervento operazione specifica e si può generalizzare fino solo fino a un certo punto perché chi appunto è un controllore navigato appunto e ha svolto decine di controlli consentirà con me nell'indicare che non nel appunto essere concorde nel fatto che è difficilissimo ricondurre poi in linea generale a un discorso qualora invece sia necessario appunto scendere nel caso specifico quindi l'ammissibilità delle spese in termini generali è valutata in conformità a tre criteri che poi sono diciamo in linea generale quelli che sono i criteri sempre della temporalità quindi come dicevo prima la temporalità è fondamentale cioè periodo di ammissibilità che ritroviamo sia nell'arco temporale del programma ma in maniera più specifica e dettagliata negli atti di convenzione quindi e di contratto convenzione stipulato col soggetto attuatore che di norma deve prevedere un cronoprogramma delle attività cronoprogramma che comporta esattamente l'individuazione del periodo di ammissibilità della spesa e qualora lo stesso non sia stato definito e declinato all'interno della convenzione dobbiamo individuare questo arco temporale negli atti propedeutici alla selezione del soggetto attuatore che possono essere appunto avviso bando o al massimo in estrema razio riferirci all'arco temporale di attuazione del programma stesso quindi il periodo di ammissibilità diventa quindi il principio di temporalità diventa cardine in questa criteri generali poi ovviamente la tipologia di spesa che sempre in questo caso sempre in termini generali parliamo di spesa riferita alla singola operazione ma la singola operazione è individuata in base a una casistica generale che abbiamo che vi ho citato che sono o opere pubbliche o fornitura di servizi o regime di aiuti e questa tipologia di spesa è sempre individuata e dovrà essere sempre individuata in quella che è diciamo in linea di principio quindi di avvio del procedimento amministrativo in una determina a contrario in una determina in cui l'amministrazione esplicita la sua volontà quindi in questa e declina l'approvazione di tutti quegli atti che permettono di individuare il fornitore che sono appunto un capitolato con un bando per un'opera pubblica un avviso per il territorio nello stesso individueremo un paragrafo dovrebbe essere individuato un paragrafo specifico in cui si individua la spesa ammissibile e la si riconduce a categorie specifiche che ci consentono di individuare poi quello che sarà la rendicontazione finale quindi materiale di spese necessarie all'individuo al raggiungimento dell'obiettivo che è obiettivo individuato nella determina a contrarre declinato se declinato in maniera corretta anche nel contratto o nella convenzione la convenzione se non citerà di nuovo quelle stesse categorie di spesa si rifarà nell'atto amministrativo dell'obbligazione giuridicamente vincolante all'avviso infine la documentazione giustificativa la documentazione giustificativa avente forza probatoria per legge sappiamo che si rifà a ovviamente a una fattura una nota debito a una busta paga un documento contabile che si rifà appunto a quella che è la normativa vigente in materia contabile e fiscale del nostro paese per quanto riguarda le spese ammissibili sempre io ovviamente in in termini generali io appunto ripeto che per quanto riguarda le linee guida si possono sempre parlare in linea generale sono linee guida ma poi risolverebbe calarsi in casi specifici e concreti le spese non ammissibili anche in analogia a quanto previsto dei fondi SIE sono ovviamente contributi in natura spese di ammortamento che non rientrano nel regolamento dell'articolo 69 interesse passivi acquisti di terreno per un importo non superare il 10% l'IVA se non sia recuperabile salvo che non sia recuperabile quindi è ammissibile le spese nel qual caso diventa ammissibile le spese riguardanti beni per cui già sono stati usufruiti misure di sostegno finanziario nazionale comunitario multe penali ammende sanzioni pecuniari depreciamenti passività interessi di more e commissioni finanziarie questo è un mer elenco generale che ovviamente ci porta a una categoria molto limitata di spese non ammissibili diventano non ammissibili tutte quelle spese che ripeto non siano state indicate puntualmente all'interno dell'avviso mando contratto convenzione per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa se poi vogliamo nella discussione io se volete sottoporre i casi specifici vogliamo discutire sulla stessa io ritengo che fare un mer elenco appunto di quelli che sono i documenti prodotti per categoria di spesa che possono essere costi personale o opere pubbliche o quant'altro sarebbe stato meramente anche forse noioso perché lo specifico bisognerebbe entrare nella casistica e comunque molto probabilmente il mio collega che mi succederà nel prossimo intervento nell'esposizione stessa della checklist e all'interno della checklist è previsto una scheda specifica dell'elenco spese individuerà le modalità di produzione documentale contabile perché in questo caso parliamo appunto di quello rispetto al fascicolo di progetto che viene sottoposto al controllore di cui vi parlavo prima ci sono documenti afferenti unicamente alla sfera amministrativa quindi alla determina a contrarre al contratto convenzione e alla ovviamente fino al collaudo nel momento del saldo collaudo o appunto verifica della fornitura e la parte invece contabile quindi che afferisce la spesa in questo caso che ovviamente richiede la produzione documentale che è legata proprio alla normativa fiscale contabile diciamo che potrei fare un focus specifico per quanto riguarda la rendicontazione del personale a tempo indeterminato quindi la rendicontazione eventuale di personale necessario per la realizzazione dell'intervento assunto a tempo indeterminato o personale consulenziale lì diciamo c'è sempre un fraintendimento sulla necessità o meno di produrre le buste paga questo rispetto all'utilizzo del personale interno perché questo ovviamente che cosa perché sto traslando adesso su un caso specifico perché voglio introdurre la rendicontazione della spesa quindi l'ultimo l'ultima informativa già l'ultima slide che saranno oggetto di questa di questo mio intervento riguardano proprio la modalità di rendicontazione della spesa perché la rendicontazione della spesa come anche per i fondi per il fondo di sviluppo e cosione anche come per i fondi su strutturali può seguire quattro diverse modalità quella che vi stavo accennando rispetto alla rendicontazione delle spese di personale e alla produzione documentale segue la rendicontazione a costi reali la rendicontazione a costi reali è la rendicontazione in cui tutto il costo dell'operazione quindi tutta l'operazione deve essere rendicontata producendo quindi quel fascicolo documentale di cui appunto vi accennavo per tutto l'arco di questo mio intervento e appunto produrre quelli che sono documenti contabili fiscali che dimostrino l'effettività della spesa quindi il principio dell'effettività della spesa e è ovviamente la modalità di rendicontazione più diciamo faticosa in termini di realizzazione del fascicolo di progetto perché richiede in base alla natura dei costi la produzione non solo della semplice fattura nota debito ma anche in base alla natura del costo che può essere appunto anche di personale la dimostrazione con fattura del professionista che lo stesso abbia svolto quell'attività oppure con la busta paga che rediga la redazione specifica di un timesheet che dimostri che quelle attività non siano oltre quella che è l'ordine di servizio l'attività specifica svolta in maniera puntuale e normale già nell'ambito dell'ente o dell'istituzione in cui il personale stesso è stato assunto quindi che svolga effettivamente quell'attività per il progetto di intervento operazione finanziata diverse sono le altre tre forme di rendicontazione le stesse sono state inserite per cercare nell'ultima programmazione anche dei fondi per cercare di snellire e migliorare diciamo anche l'attività onerosa in termini temporali di tempo impiegato migliorare anche le performance tra virgolette del controllo perché il controllo in questo caso non è più focalizzato alla verifica del controllo del documento stesso contabile a sostegno dell'operazione finanziata ma è più il controllo è più focalizzato sulla verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi quindi nelle tre modalità successive che sono indicate in questo slide tabelle standard di costi unitari somme forfettare o finanziamento a tasso forfettare che tra poco mi illustrerò le modalità in questo caso non si non si vanno a verificare più i documenti contabili fatture sempre note debito buste paga ma in questo caso si vanno a verificare appunto che siano in particolare per le tabelle costi standard UCS se le attività sono state svolte se ovviamente è stata attivata una modalità per il montaggio e la verifica delle stesse e si moltiplicheranno quindi le ore in questo caso molto spesso viene utilizzata per la formazione per il numero dei partecipanti alla formazione rispetto al numero delle ore verranno moltiplicate per un parametro di costo orario e si individuerà quello che è l'ammontare del finanziamento riconosciuto al soggetto attuatore quindi come vedete il focus sulle altre tre modalità di rendicontazione è più spostato sulla verifica dell'effettività dell'operazione dell'effettività e dell'obiettivo raggiunto rispetto a quello che era stato indicato nell'intervento programma come il numero di persone messe in formazione come il numero di persone sempre utilizzate per una progettazione e questo ovviamente rende più fluido il controllo nello stesso tempo da anche una diversa responsabilità al controllore che in quel caso deve assicurarsi in maniera più puntuale della realizzazione dello stesso rispetto sia al programma che all'operazione che all'attuazione del soggetto attuatore quindi le somme forfettarie per quanto riguarda la terza modalità della rendicontazione della spesa le somme forfettarie vengono utilizzate normalmente nel caso dei costi indiretti allora perché vi introduco brevemente questa differenziazione tra costi diretti e costi indiretti dell'operazione i costi diretti dell'operazione sono tutti quei costi che ovviamente la parola stessa sono direttamente imputabili alla stessa individuati come dico sempre all'interno della convenzione contratto avviso cioè avviso convenzione contratto se riportati negli stessi oppure nell'avviso unicamente nell'avviso e sono individuabili in maniera puntuale i costi indiretti e sono ovviamente si rifanno a quello che io sottolineo sempre come principio di inerenza inerenza imputazione diretta all'operazione e i costi indiretti sono tutti quei costi che sono di solitamente riconducibili a costi di struttura che non sono direttamente imputabili agli stessi e che solitamente nella rendicontazione a costi reali sono richiedono uno sforzo di individuazione che non risulta essere totalmente trasparente e vado sul caso pratico perché altrimenti rimango troppo sul teorico quindi qualora appunto per erogare un servizio ci sono le persone adibite allo stesso abbiano svolto la loro attività presso una struttura fisica come quella che vedete che mi sta circondando in questo momento occupando locali utilizzando luce elettrica utilizzando della strumentazione elettronica la stessa è imputabile al progetto solo per le ore in cui io sto con voi colloquando in questa nostra interazione mattutina questa nostra formazione quindi ovviamente questo richiede difficoltà perché dovremmo indicare individuare un costo sulla bolletta della luce un costo orario e ovviamente allora cosa come si è intervenuto si è intervenuto con le somme forfettarie indicando una percentuale sui costi indiretti dei costi indiretti ecco le somme forfettarie in questo caso sono voglio per quanto riguarda infine il finanziamento a tosso forfettario invece in questo caso si calcolano praticamente anche in questo caso si definiscono le percentuali su categorie di costo definite quindi per quanto riguarda i finanziamenti a tosso forfettario si possono individuare per esempio nel quadro economico si individua una voce di costo specifica sulla quale si individuerà la percentuale che in base alla variazione della stessa il cui costo potrà essere imputato al progetto faccio sempre un esempio se nel quadro economico ci sono indicate delle spese appunto per opere pubbliche e sulle stesse ovviamente devono essere individuati dei parametri per i costi di progettazione e gli stessi potranno essere imputati in base al variare del costo dell'opera stessa quindi il costo di realizzazione dell'opera che ovviamente varierà in base alle risultanze della gara e al ribasso della gara diciamo tutte queste in questo caso la progettazione segue il costo di realizzazione dell'opera quindi sono modalità però preciso che possono essere utilizzate solo qualora il RUA abbia individuato delle stesse nella ovviamente la determina a contrarre quindi nell'avviso bando e specificando l'utilizzo e la modalità delle stesse quindi risulta in via generale verrà applicata la modale reale di rendicontazione della spesa a costi reali e solo qualora appunto il RUA ritenga che per quel specifico progetto operazione è possibile attuare delle forme di semplificazione della rendicontazione e l'individuo in maniera dettagliata individui le modalità allora verranno utilizzate e il responsabile del controllo adeguerà il controllo alle stesse vado avanti con le ultime slide se no mi dilungo troppo adesso e sono riguardano unicamente la conservazione dei documenti come previsto dal manuale delle procedure di gestione devono essere conservate sotto forma di originale decope conformi e devono essere tenuti a disposizione dei soggetti interessati che possono essere l'organismo di certificazione o appunto lo stesso RUA e devono essere conservati in appositi fascicoli cartacei o archivi informatici per avere appunto un dossier della linea di progetto infine ci sono sempre allegati al SIGECO le piste di controllo relative alla tipologia di interventi previste del patto che sono appunto opere pubbliche a regia a titolarità o a regime di aiuti che sono ovviamente quelle che sono individuate come i percorsi delle piste di controllo ci indicano appunto i ruoli le procedure e i soggetti attuatori convolti e ovviamente tutte le modalità perché il procedimento fluisca in maniera regolare e per cui il sistema di gestione e controllo sia applicato in maniera conforme alla normativa vi ringrazio per l'attenzione e sono a vostra disposizione per ulteriori domande Allora Stefania ti ringrazio sei stata molto chiara vedo che appunto anche il collega da ROS non aveva domande spero che i 65 partecipanti di oggi abbiano diciamo colto a pieno lo spirito di questa giornata e appunto cioè noi abbiamo provato con la schematizzazione che vi offriamo con questi webinar a un po' ripercorrere a grandi linee quelli che sono gli elementi base di conoscenza che servono a chi si approccia ad agire il ruolo di responsabile di linea RUA piuttosto che di controllore di primo livello è chiaro che sono elementi che ritrovate nei vari manuali delle procedure che sono appunto disponibili sul sito della regione Abruzzo e che appunto anche diciamo con l'affiancamento dei membri della task force di assistenza tecnica potete appunto poi in particolare sviscerare laddove ci siano degli elementi poco chiari a questo punto io visto che non ci sono altre domande e che anzi che non ci sono affatto domande e che tutti mi sottolineano che è stato tutto chiaro non toglierei diciamo tempo alle attività lavorative che sicuramente avete e alle quali appunto dovete dedicarvi quindi vi ricordo il prossimo appuntamento tra due mercoledì con il collega Alessandro Ciccone che appunto continuerà la carrellata sui controlli di primo livello nel frattempo c'è appunto la nostra mail a disposizione a t parfas.abruzzo chiocciolaformets.it se avete delle domande o delle richieste e volete veicolarle tramite questa diciamo email altrimenti ribadisco e abbiamo le nostre antenne dell'assistenza tecnica sempre a vostra disposizione grazie Stefania per il tuo contributo e a questo punto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta arrivederci grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti